bentornati sul mio canale ragazzi zo papagalli oggi che abbiamo dopo tantissimo tempo di ricerca cosa abbiamo qui una qualia cinese maschio non sono riuscito a trovare una copia guardate ragazzi com'è fantastico bello e ho avuto una sorpresa perché quando l'ho portato a casa me l'hanno dato in una scatola apposta per il trasporto io pensavo che le quali non volassero ma invece subito dopo aver aperto la scatola ha spiccato il buono fortunatamente ero in una stanza chiuda e sono riuscito a prenderlo di nuovo ed eccola qui per il momento la lascio qui ma il pomeriggio troverò una bella sistemazione in una gabbia molto più grande dove potrò pascolare girare volare anche se vuole nel frattempo cercherò di cercare una femmina sempre quaglia cinese della stessa razza così potrò formare una coppia e lui non si sentirà più solo a proposito dell'alimentazione delle quali dicono che mangiano un po di tutto dai semi agli scarti degli uccelli insomma un po di tutto come le galline quindi per l'alimentazione non ci sono problemi per adesso per il momento gli ho messo i semi delle cocorite se avete più esperienze di me o più informazioni riguardo le quali città è cinese fatemelo sapere qui sotto nei commenti per il momento è tutto vi lascio guardervi il video e vi invito a iscrivervi al canale per non perdere un nuovo video e vi invito a iscrivervi al canale per non perdere ciao ciao alla prossima buona visione ciao ciao